Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo ritorno alle cheppie in realtà è la stessa giornata del video precedente però quest'oggi vedremo molte picature e tanto tanto divertimento mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e se superiamo i 170 like vi porto cheppie a casting con una delle nuove canne dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video lo iscrivetevi al canale preso in seguimento che pia eccola la data o le le che p guarda le che p guarda le che p guarda le che p guarda le che p e ci sono due branchi c'ho le che p e dana alla fine giano che p in the night is la mata ciao giana si ok però non si fa un caso o ecco tu mi stai non pindola piccolina anche all'esca eccola qua ma se l'ho usata anche due uri guarda i cavi da me guarda davanti guarda e che p e figa non lanciarli così le spaventi no devi lanciarli più in fuori perché sennò sentono e scappano in giù ho presa no all'ultimo stavo per tirare su io guarda ce n'è una qua davanti non l'avevo neanche vista è un predatore fantasma perché non lo vedi ma che pia no forse abbassarsi al massimo spresa qua davanti a me chiamiamola direttamente in acqua chiamiamola direttamente in acqua puttana era grossa no si prendono male no no è arrivato a finire qua sotto la punta minchia grossissime due due attacchi io vedo lo spoon che luccica dopo bam recupero veloce 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 ancora vai che bella questa bella questa eccola qua questa che c'è in release questa che c'è in release guarda uno dopo l'altra ragazzi mi raccomando lasciate like condividete il video iscrivetevi al canale mentre Tommy sclera per altri video del genere voglio farmi il releaser per portarle a prendere adesso sto pescando con ancoretta si però non ho avuto il tempo di cambiarle proprio li ho presi poi li ho persi quindi così la prossima volta torno con tutti gli artificiali manuamo tu hai visto? tu hai visto Ciano? la sua chieda a zeccare la recupero oh nooo ha fatto a cancara due volte vediamo se facciamo la doppietta no questo è il tabinista qua cos'è? non era un cazzo con quelle grosse me l'hanno inchiulato uh ha vista vai salta eccola qua un po' più bella un po' più bella presa presa nooo oh presa c'è persa una e ho presa l'altra top c'è like ci vuole il like qua no no ok si è la zamata da sciola da sciola ragazzi ho capito come comincia a farle ho capito come prenderle dove e come fregarle cosa che stanno dietro che cazzo fai? no ancora più eh? cosa che stanno dietro mi stanno per dare che cazzo fai? fermi? no no continui continui in tutta velocità finchè perchè? le duro come le duro? cazzo fai cazzo fai tanto inchiiaa vai ciano double coi dico questa è questa vai 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 ahhh vai fai double il double release un attimo di indormentà pare che non è colpa mia se l'è dentro forse una roba esterna fatta che la dosi irà via questa è bella guarda 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 si guarda